buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo a riete abbiate cura di voi stessi e delle vostre cose toro moderate l'intransigenza e fate in modo da essere più tolleranti soprattutto con colleghi ed amici gemelli tiratevi su e cercate di fare buon viso a cattivo gioco cancro sarebbe meglio restarsene in disparte ed evitare ogni motivo di tensione leone potreste ricevere una risposta indesiderata da chi non ve lo aspettate vergine occorre tutta la vostra attenzione e ogni sforzo utile per cogliere un risultato che vi sta a cuore bilancia giove vi porta una ventata di piccoli successi e ne aspettate entrate scorpione ottime prospettive per la giornata di oggi contate sulle vostre uniche energie sagittario possibili novità in arrivo per posta capricorno dispenserete sorrisi e spargerete il buon seme della serenità intorno a voi acquario non fidarti di chi ti farà grandi promesse dovete essere più realisti e concreti pesci potreste aver bisogno dei vostri spazi e riconsiderare la vostra posizione in merito a numerose situazioni questo è tutto a domani con il prossimo appuntamento dell'oroscopo